Bentornati nel mio canale, se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Come puoi vedere, non so se si veda, io sono circondata, è proprio circondata dai tessuti. Sono felicissima di farti vedere tutti i tessuti che mi sono arrivati ieri, quindi sto subito, subito, subito girando il video dal sito di YayaTessuti.com Io ho fatto tanti altri video dove ti ho fatto vedere i tessuti di Yaya Tessuti, bellissimi. Quella che indosso, come vedi, una bellissima maglia, è stata fatta proprio con un tessuto di Yaya Tessuti che purtroppo ti do una brutta notizia, non si trova più questo tessuto, ma se ne trovano tante altre bellissime come questa. Ti dico come si fa per ordinare. Se tu abiti a Bari, vicino a Bari, puoi andare direttamente nel negozio oppure loro spediscono in tutta l'Italia. Io abito in Sardegna, per cui cosa puoi fare? Puoi andare nel sito e ti metto il link dei tessuti che ti faccio vedere. Sono tutti i tessuti dell'ultima diretta perché Angelo fa ogni tanto delle dirette e in queste dirette fa degli sconti pazzeschi. Infatti la maggior parte dei tessuti che ti faccio vedere oggi sono tessuti scontati a 5 euro. Alcuni 8, altri 15 euro, ma sono scontati pure quelli perché inizialmente, cioè originariamente costavano veramente tantissimo. Li ho divisi per tessuto. Te li faccio vedere perché ho dei tessuti combinati, quindi possono essere cuciti dei completi. Siamo proprio da quelli, così poi li vediamo per tipologia di tessuto. Appena tu entri nel sito di Gaglia Tessuti, se tu ti iscrivi alla newsletter, potrai avere, quindi ti iscrivi al sito, potrai avere il 10% di sconto. Quindi io ti consiglio di iscriverti in modo tale che nel carrello degli acquisti tu metti che sei la prima volta che acquisti nel sito e ti fai il 10% di sconto. Seconda opzione, a volte fa degli sconti pazzeschi, infatti io ti consiglio di seguirli nei social, su Facebook, su Instagram. Loro, soprattutto su Facebook, vengono fatte le dirette e se tu mi segui io faccio sempre la pubblicità delle sue dirette. Quindi quando ci sono le dirette, almeno due, un giorno prima, ti avviso e anche nel momento in cui sta facendo la diretta. Ma la puoi guardare anche indifferita. Infatti ti lascio qui sotto il link anche dell'ultima diretta che è stata fatta, dove ci sono questi tessuti che ti sto facendo vedere. Ma se tu hai già usufruito del 10% di sconto perché hai già comprato, puoi utilizzare il mio codice sconto, CRIS10. Ti lascio tutto giù il link, li trovi sempre comunque il link con il mio sconto. Per cui stesso discorso, tu nel carrello degli acquisti devi aggiungere CRIS10 e avrai il 10% di sconto anche su tutti i tessuti scontati. Quindi questa è qualcosa che faccio solo io, che hanno dato solo a me, questo sconto, in tutta l'Italia. Solo io e solo online, cioè questa possibilità di comprare col 10% di sconto utilizzando il mio codice. Grande offerta che viene fatta grazie a me. Quindi se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale perché io do tante possibilità e cerco sempre di trovare degli sconti per te, da aziende sempre inerenti al cucito, alla sartoria. Ma adesso terminiamo tutto questo bel discorso e iniziamo a vedere le stoffe insieme. Allora, mi sono messa il microfonino in modo tale da poter parlare liberamente. Allora, iniziamo con dei tessuti che non ci sono più. Ok, iniziamo da questi. Mi dispiace dirtelo perché sono bellissimi. E uno è questo, che è qualcosa di meraviglioso. Mamma mia, cioè è veramente un tessuto stupendo. Rimane elasticizzato ed è un cadì. E con questi, con i cadì, cosa puoi fare? Il cadì è uno dei tessuti che io amo. Forse è il tessuto che amo di più, in assoluto. Amo anche il cotone perché è facile da cucire. Però come abbigliamento, la resa proprio fantastica, il tessuto di cadì, cadì non ti lascia mai insoddisfatto. Ma guarda la meraviglia di questi colori. Io spero che si veda perché è stupendo. E nella parte terminale abbiamo queste strisce. Quindi la cosa più bella, secondo me, è fare o un abito con un tessuto del genere. È bello fare o un abito oppure dei pantaloni. Ovviamente pantaloni o una casacca. Dove nella parte terminale, nell'orlo, abbiamo questo motivo. I colori sono qualcosa di incredibile. E sono molto molto felice perché ce l'avrò solo io. Quindi questo, perché te lo dico? Perché sia questo tessuto che questo tessuto che sto indossando non ci sono più. Quindi, se tu vedi un tessuto che ti piace, non pensare. E vabbè, lo prenderò in un secondo momento. No! Perché se termina il tessuto, tu non potrei averlo più. Quindi bisogna prendere la palla al balzo. E nella vita bisogna sempre prendere le palle al balzo. Per tutte le cose, ricordatelo. Non bisogna mai farsi sfuggire niente nella vita. Delle cose che piacciono. E tutto quello che è lasciato è perso. Secondo tessuto che non si trova più. Che a me, ti dico la verità, questo tipo di tessuti inizialmente non mi piace. Non mi piace. Piace molto alla mia carissima amica, che saluto. Carmen, che abita a Napoli. Una mia, praticamente mia sorella. Una mia sorella separata alla nascita. Non siamo praticamente identiche. Come ragioniamo. E ci adoriamo da praticamente 16 anni. Perché è un'adorazione che abbiamo l'una per l'altra. Vabbè, detto questo, a lei piacciono molto questo tipo di motivi. E lei, sempre come ha comprato camicette, vestitini. E le ho sempre detto, sì, il vestitino è bellino. Molto, molto bello. Ma non mi piace il tessuto. Non mi piace la fantasia, non il tessuto. La fantasia. Lo sai che io ci sto ripensando? Eh, a me questa fantasia mi piace. Non si trova più nel sito. Sesso discorso di prima. I colori sono qualcosa di allucinante. Cioè, una meraviglia. Mamma mia, bellissimi. E io di questo, con questo puoi fare pantaloni. Magari pantaloni larghi. Ovviamente, essendo un tessuto trasparente, devi foderarlo. Vendono le fodere per foderare i pantaloni, così. Una gonna o un vestito, invece, puoi mettere una sottoveste. E io devo andare alla ricerca di sotto... Perché non me la faccio la sottoveste. No. La vado a comprare. Io andrò a comprare, per quest'estate, le sottovesti. Perché voglio farmi un sacco di questi vestitini. Anche un po' trasparenti. E per non... Vabbè, che adesso si usa andare fuori nude. Cioè, uscire nude, così. Vabbè, ma non è il mio caso. Non ce la posso fare. A parte che non ho anche il fisico di uscire mezzonnuda. Comunque, il consiglio che ti posso dare è di indossarli con... O fai la fodera di un vestito, oppure li puoi indossare con delle sottovesti. Se vuoi farti una blusa, puoi mettere una maglia. sotto, color, ovviamente, tinta unita, che possa star bene. Per esempio, con questo io ci metterei una maglia nera. E rimanco le spalline sottili. E con questo io sicuramente ci farò una camicia particolare, che ti piacerà tantissimo. Sono sicura. Tutto molto, molto particolare è questa ecopelle. Che, come puoi vedere, è un'ecopelle che rimane bella elasticizzata. Motivo traforato. ed è adatta per giacche, gonne, abiti e pantaloni. E anche, secondo me, per maglie. Per esempio, vuoi farti una maglia, per esempio, nera? Puoi fare, magari, la parte di sopra, questo motivo, con questo tessuto. Le maniche, con questo tessuto. Oppure la parte di dietro, con questo tessuto. E la parte davanti, diciamo, anche tagliata qui, nera e qua, con questo motivo. Oppure una gonna. Allora, io, con questo farò una gonna a tubino. Anche se tu dirai, è mai trasparente, Cri. Chiaramente, per fare una gonna, qua ci vuole una fodera elasticizzata, in maglina elasticizzata, perché sennò è trasparente. Però una gonna fantastica. Anche perché devo farti il tutorial di una gonna a tubino. Che te l'ho già fatta, ma la rifacciamo. Abbiamo un altro tessuto, che è questo qui. Bellissimo. Un tweed. Tweed bouclé. Con dei fili, io spero che si veda, dei fili rosa gold. Rosa cipria. Con questo, cosa si può fare? È adattissimo a fare le classiche giacche Chanel. Gonna tipo Chanel a tubino. Anche questa è adattissima. Molto, molto bella. Abiti. E si possono anche fare borse. Ovviamente, per fare la borsa, tu la devi intelaiare all'interno, per renderla rigida. Cosa farò con questo? E poi farei anche abiti con questo, perché è un tessuto estivo, molto morbido, fresco. Molto bello fare anche un abito con questo. Io ce lo vedo un abito dritto, un abito con o senza maniche. Tessuto di crepe. Ad alcuni non piace il maculato. A me è sempre piaciuto il maculato. C'è stato un periodo in cui non mi piaceva il maculato. Ma secondo me il maculato, saputo mettere, saputo gestire bene, ha il suo perché. E questo è un tessuto, appunto, come stavo dicendo, è un tessuto di crepe. Quindi rimane un tessuto fermo, molto, molto morbido. Come puoi vedere, molto morbido. Adatto per fare abiti. Magari un abito lungo, bello vaporoso. Immaginati un abito lungo, bello vaporoso, bellissimo. Gonne. Gonne a ruota, gonne a mezza ruota, gonne a lunga, gonne al ginocchio, bluse. E secondo me anche foulard, perché anche il rovescio è bello. Doppiandolo, se lo doppi, lo fai doppiato, è bello anche un bel foulard. Bellissimo. Doppiato, perché l'altra parte non è double fass, quindi devi doppiarlo, però è veramente carino. Quindi puoi farti, ad esempio, una blusa con la sciarpina. Fantastica. Puoi fare pantaloni, puoi fare camice, anche una bella camicia, una camicetta. È stupendo. Un tessuto stupendo. Veramente molto, molto bella. Poi sono colori che io amo tantissimo, che mi stanno molto bene, perché sono in palette con il mio sottotono freddo. Quindi il marrone chiaro, questo turchese, bellissimo. Mamma mia. Veramente è meravigliosa. Allora, adesso ti faccio vedere, proprio adattissimi per l'estate, chiffon. Abbiamo questo, che è super super colorato, super super adatto all'estate. Lo chiffon è un tessuto che rimane molto trasparente. e in questo caso abbiamo questo chiffon che ha filo di lurex glitterato, diciamo, ha un effetto glitter. E questo mi ha sbloccato un ricordo, perché questo è un tessuto che mi ricorda tantissimo, tessuti anni 70, che usavano mia madre e le mie zie per andare al mare. E le utilizzavano per, come copricostume, quindi con questo puoi fare, copricostume, pareo, vestitino da mettere al mare, bello morbido, lungo, oppure corto, come vuoi. Fantasca. E mi ha ricordato una famosa marca che secondo me non esiste più. Non ho sentito parlare di questa marca. L'ho chiesto anche a mia madre. Non so se si possa dire. No, ricorda appunto questa marca che era famosa a quei tempi. Quindi parliamo anni 60-70. E le aveva una tuta, tra l'altro, fatta così. E questo è stupendo anche per fare un abito. E se utilizzi, come ti ho detto prima, una sottoveste, oppure lo puoi utilizzare per fare una camicetta, magari con volant, particolare, oppure semplice, anche perché se il tessuto è molto particolare, io ti consiglio sempre di fare cose semplici, molto, molto basiche, perché già il tessuto parla da solo. Quindi più il tessuto è particolare, è colorato, è rumoroso, come in questo caso, e più il cartamodello e l'abito deve essere sobrio. Altro di chiffon è questo, meraviglioso, anche questo. E qua il discorso di prima. Questi tipologi di tessuti a me non piacevano. stesso discorso di prima, ma ti dirò che è un tessuto a parte che di una freschezza e morbidezza unico, credo che si veda anche dalla video, ed è veramente bellissimo. I colori sono stupendi, perché c'è questo verde, verde freddo, questo celeste, comunque ti lascio il link, ce ne sono anche altri di tessuti così, magari ti piacciono di più. Questo è adatto anche a fare abiti, camicie, bluse e via dicendo. Quindi anche questo, io credo che di questi farò abiti. Anche perché io d'estate sudo tantissimo, cioè pattisco molto il caldo, per cui mettersi un abito così, senza grandi fatiche, è veramente il top per me. Due completi. Il primo è i suittori del Lilla. Per gli amanti del Lilla. Stupendo. Questo è un tessuto di Mikado. che come puoi vedere già, vedendolo, è un tessuto che rimane più rigido, un po' rigido, vedi? Cioè, non è mosso, è rigido, rimane in forma. Quindi, il tessuto di Mikado è adattissimo per fare abiti, gonnellone, di quelle belle, che rimangono proprio in forma larghe, bellissime. quindi abiti da cerimonia, per esempio, che rimangano rigidi, strutturati, per esempio, con la gonna, con le pieghe, che volete, vuoi che rimanga bella, in forma, giacche, si possono fare giacche, giacchettine, bolerini, perché tiene tutto, tra l'altro anche con le maniche a sbuffo, ti esce una meraviglia, perché proprio questo è adattissimo per le maniche a sbuffo, maniche che hanno bisogno di una struttura, ed è veramente bellissimo, ed è un tessuto che rimane un po' lucido, vedi, così, abbinato con uno chiffon, amo, lo chiffon, io lo amo, lo chiffon è un tessuto, come puoi vedere, molto, molto fluido e leggero, con questi, sembra un quadro, sembra proprio dipinto, è meraviglioso, se i toni sempre del lilla, quindi questo completo ti farà sentire una regina e puoi fare camicie, abiti, gonne, quindi stole, foulard, foulardini, puoi abbinare l'abito con un foulard, spolverini, spolverini, mamma mia, uno spolverino con questo, mamma mia, immaginati l'abito fatto così e lo spolverino, io già vedo i vestiti, ho questo dono, l'ho sempre avuto, e dal tessuto io riesco a vedere tutti i vestiti, tutte le opzioni che si possono fare con quel tessuto, credo che sia un dono, non mi viene assolutamente difficile da pensarlo, e di questo qui a me piacerebbe fare o una bella gonnellona, sarebbe veramente fantastica, oppure un abito a tubino, un abito semplice, stile tubino appunto, con magari un po' le maniche a sbuffo, non esageratamente, in modo tale da poterla, poterla utilizzare, non in occasioni troppo importanti, anche perché non ho matrimoni in vista, e via dicendo, mentre con questo mi piacerebbe molto fare una camicetta. Altro micado, tessuto di micado, che ricordo, questo micado è scontato 15%, 15 euro, però poi a questi 15 euro devi togliere 10% di sconto con il mio codice, guarda che meraviglia, stesso discorso di prima, questo è un colore carta da zucchero celeste, fantastico, non riesco più a muovermi, ti dico che non si vede, ma io non riesco più a muovermi, micado, è abbinato con questa bellissima organza, l'organza è una sorta, è un tessuto trasparente, è un tessuto che ha una struttura, è un tessuto che non è troppo morbido come puoi vedere, vedi che rimane in forma anche questo, cosa vuol dire? Vuol dire che con questo tipo di tessuto se fai i volant ti rimangono in forma, i volant per esempio sul davanti se vuoi farti una camicetta oppure in una manica con i volant, i volant non scenderanno musci, ma rimarranno belli in forma, lo stesso per quanto riguarda un abito, una gonnellona, quindi si può fare anche una gonnellona in questo modo, cioè puoi fare una gonnellona utilizzando i due tessuti insieme, quindi guarda che meraviglia, tu immaginati una gonnellona così, non ha parole, è meravigliosa, è meravigliosa, guarda la meraviglia, oppure puoi farti un abito e sopra fare una casacca, una camicia, una blusa e anche questo lo faremo insieme o comunque lo faccio anche da sola, magari ti metto qualche consiglio su come cucire questo tipo di tessuto, io ho fatto tutto una studio dei tessuti qui su youtube, ti lascio il link sotto anche di tutti i tessuti dove io ti spiego i tessuti, come li devi lavorare, la modalità, però di questo lo faremo insieme e anche questo, mica è finita, no no no, allora avrò da cucire con tutti i tessuti di Yaya che mi mettono un'allegria incredibile, come ho detto in un vecchio video mia mamma mi disse puoi direttamente andare a dormire con i tessuti di Yaya, cioè me li metto vicino e mi addormento in pace serenita, cioè io amo i tessuti, è una cosa incredibile, non lo so, magari altre donne vorrebbero comprare, perché in realtà mi piacciono anche le scarpe e le borse, non fraintendiamo, e anche i gioielli mi piacciono, i tessuti, mamma mia, il tessuto di saten è un tessuto che ricorda molto, per darti un'idea, raso leggerissimo, ricorda anche la seta, ecco ricorda la seta, più che il raso ricorda la seta, saten fantasia, questi saten, questo è 5 euro al metro, lo trovi, sempre super scontato, più il mio sconto, 5 euro al metro più il mio sconto, e questi sono tessuti, come vedi, questo è bellissimo, molto molto morbido, sono adatti per tutte le stagioni, camice, abiti, gonne, bluse, tute e pantaloni, e poi me lo sono segnato, perché così me lo ricordo, per dirti i prezzi sicuri, questo è un tessuto satenna fantasia, motivo astratto, verde prato, ne sono 27 metri, quindi mi raccomando, voi non venite da me a dire è finito, non lamentatevi com'è che è finito, perché questo è il tessuto, come l'abbiamo chiamato, anzi l'ha chiamato, ma lo chiamo anche io, io e Angelo lo chiamiamo, diciamo così, il tessuto di Jennifer Lopez, eccolo qua, vuoi non lamentarti, se finisce, 27 metri, lo sto leggendo adesso, adesso, 27 metri, ok? vuoi non lamentarti, tessuto di Jennifer Lopez, che cosa è? Che cosa è questo tessuto? Ti metto qui il vestito di Jennifer Lopez, famosissimo, che era stato fatto, Versace, che poi lei dopo tanti anni l'aveva rindossato, aveva più di 50 anni, l'ha rindossato nuovamente, Jennifer Lopez, è una forza, dicono che sia molto antipatica, a me è sempre piaciuta, anche come attrice, sì, film non tanto impegnati, però, comunque a me è sempre piaciuti i film di con Jennifer Lopez, nel senso che, quasi quelle, un'ora e mezzo, in allegria, ecco, abbiamo un po' bisogno di allegria, dai, in questo mondo un po' triste, a volte è un po' triste, un po' difficile, quindi, questo Jennifer Lopez, che è a 8 euro al metro, e invece è questo, che è sempre Satin, Nettoli del rosa, rosa fucsia, fate che meraviglia, anche questo adatto a, sembra seta, sembra seta, bellissimo, e questo è adatto per pull-art, ovviamente li devi doppiare, perché non è duple fass, pull-art, habit, gonne a ruota, gonne lunghe, gonne più corte, bluse, camicette, camicie, pantaloni, di tutto e di più, ed è meraviglioso, meraviglioso, e lo puoi abbinare, con il blu, io ti consiglio, di abbinarlo con un blu, con un bel blu, questo è un blu violetto, però con un blu, anche con i jeans, ci sta benissimo questo, benissimo, una bella blusa, indossata con i jeans, è la morte sua, di questo non so quanti metri ci sono, andiamo a guardare, vediamo se, allora questo costa 10 euro al metro, più il mio sconto del 10%, pochissimi metri, vuoi non lamentarti, 4, in questo momento sono 4,5 metri disponibili, cioè stanno finendo, stanno finendo, quindi 4,5 metri, mamma mia, che bello, che bello, che bello, mi piace da morire, è bellissimo, tra l'altro, ha questo fatto che, la parte superiore, come vedi, è rosa, 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 e nell'orlo, puoi farlo, con questo motivo qua, è nell'orlo, che c'è questo motivo, veramente, non ho più parole, adesso passiamo ad altri tessuti, viscosa, 5 euro al metro, ti faccio vedere, prima questa, perché l'ho trovata nel sito, perché io sto guardando anche il sito di Yaya, nel mentre, più il mio sconto, sempre del 10%, ed è un tessuto fantastico, la viscosa, morbidissima, morbidissima, anche questo ha questi motivi cashmere, floreale, cashmere, blu, verde, turchese, e rosso, che cosa la puoi abbinare? Ovviamente con i jeans, con un paio di pantaloni blu, lo puoi abbinare anche con un paio di, una gonna, un paio di pantaloni, di questo colore qua, un po' beggiolino, questo lo stesso blu, di questo 15 metri disponibili, 5 euro al metro, ovviamente questi sono alcuni dei tessuti, che trovi nel sito, poi vai a guardare, ce n'è una quantità esagerata, poi puoi chiedere anche informazioni al link, io ti lascio giù tutti i recapiti, anche il whatsapp di Yaya tessuti, in modo tale che tu possa parlare con Angelo, e possa chiedere anche un consiglio, per esempio devi andare a fare una cerimonia, devi andare a una cerimonia, devi andare a una festa di laurea, e vuoi un certo tipo di tessuto, chiedi ad Angelo, in quanto prima ti risponde. Altro tessuto di viscosa che io amo, alla follia, è questo qui, mamma mia, questi tessuti a me fanno venire voglia di estate, e io odio l'estate, ti ho detto tutto. Io amo e odio l'estate, perché da una parte mi piace l'estate, perché ti puoi mettere un vestito, prendi e esci, dall'altra c'è troppo caldo, e soprattutto noi che abitiamo in Sardegna, io abito a Cagliari, quindi praticamente se vai a guardare una cartina, è praticamente attaccata a Tunisi, cioè io se me la faccio, me la potrei fare anche a nuoto, io so nuotare abbastanza bene, ho fatto anche scuola di nuoto, io secondo me lo potrei fare a Cagliari-Tunisi, infatti siamo anche un po' tunisini, noi sardi abbiamo un po', soprattutto, ma anche le donne, ma anche io no, io sono un po' un mix di razze, le sarde, come i sardi un po' tunisini, un po' tunisini, assomigliamo molti tunisini, mio nonno materno, tra l'altro sembrava un tunisino, bellissimo tunisino, devo dire, perché mio nonno era bellissimo, metto la foto di mio nonno con mia nonna, perché ti voglio fare rosicare, perché i miei nonni erano super belli, sembravano due attori, guarda un po' la meraviglia, con questo idem, vestito, pantaloni, non c'è neanche bisogno di poderare, tagli e via, non è assolutamente trasparente, culara, come se piovesse, di tutto è anche di più, questo è adattissimo, ha pantaloni larghi, gonne lunghe, vestiti, adesso mi voglio cercare dei vestiti, abiti parisilto, non devo cercare, che sono abiti che cadono, sono sempre tagliati qua, se notti, magari ti mando qualche foto, per fartelo vedere, sono sempre, qua hanno un corpetto, una sorta di parti, diciamo che rimangono così, tagliati o in vita, o in vita alta, o in vita, o in vita, poi scendo, ma solitamente vita alta, e scendono tutti morbidi, proprio voluminosi, puoi fare le ruote, bellissimi, e questo tipo di tessuto, lo vedo estremamente adatto, allora, uno mi è caduto, ed è questo, che è saten, li abbiamo visti prima, quelli di saten, e questo ha i colori, che a me stanno benissimo, perché è un color turchese, e io ho in palette, il color turchese, secondo me mi sta meglio, anche del rosa, a me personalmente, mi piace molto il nero, il bianco, il pan, il turchese, mi sta troppo, anche il verde, mi sta molto bene, questo mi sta benissimo, di colore, ed è saten, tutto di saten, che abbiamo già detto prima, te lo faccio vedere, molto morbido, vedi, adattissimo a fare camice, abiti, bluse, gonne, tutte, e pantaloni, a 5 euro al metro, più il mio sconto, Chris 10, ok, andiamo avanti, ma ti dicevo, dove è andata a finire, non lo trovavo, da di elasticizzato, eccolo qua, la meraviglia, la di elasticizzato, meraviglioso, verde petrolio, fantasia, motivo floreale, fucsia, verde petrolio, fucsia con il verde petrolio, e qua lo puoi abbinare, a pantaloni neri, se vuoi fare, puoi fare, abiti, casacca, pantaloni, gonnellone, gonne a ruota, mezza ruota, giacche, tagliere, e anche tute, perché rimane elasticizzato, non è elasticizzatissimo, però è elasticizzato, bellissimo, è una meraviglia, è una meraviglia, è una meraviglia, colori, veramente bellissimi, allora, 5 euro al metro, e di questo ce n'è molti metri, però mi raccomando, non farti fregare, perché magari altre, arrivano prima di te, ce ne sono 45, 49,5 metri, adesso che sto girando il video, quindi ce n'è abbastanza di questi, di questo, bellissimo, non lo so cosa farò, perché vorrei fare tantissime cose, devo decidere cosa fare, fammi sapere nei commenti, cosa faresti con questi tessuti, andiamo avanti, sempre tessuti di KD, abbiamo questo nero e bianco, sono due ore che parlo di tessuti, guardate la meraviglia, anche questo è 5 euro al metro, se non erro, 23,5 metri, guarda la meraviglia, vabbè, il bianco è l'ero, cosa ti devo dire, adatto a fare, abiti, pantaloni, è leggermente elasticizzato, ma motiva strato nero, fantasia, morbida, elasticizzata, ideale per realizzare capi comodi, pratici, allo stesso tempo eleganti, per la creazione di abiti, gonne, pantaloni, giacca e tagliere, e tutte, io lo amo questo tessuto, bellissimo, veramente meraviglioso, non vedo l'ora di cucirmi, tutti questi tessuti, in modo tale da farti vedere, cosa ho cucito con i tessuti, di Yaya tessuti, una bella idea, da realizzare, un video di questo tipo, fammelo sapere nei commenti, se ti piace l'idea, cosa ho realizzato, con i tessuti di Yaya, altro tessuto di, di cadica, di cadica, di che ti piace tanto, sui toni del marrone, sui toni del fucsia, motivo che ricorda Versace, tanto Versace non si arrabbierà, guarda che meraviglia, meraviglia, anche questo è elasticizzato, andiamo a vedere quanti metri ce ne sono, 5 euro al metro, di questo vai tranquilla, 80 metri disponibili, 80 metri disponibili, con questo secondo me, è leggermente elasticizzato, una bella blusa, stupenda, non è super elasticizzato, però le bluse si possono fare, non come questa, questa è elasticizzata, questo è un tessuto elasticizzato, però che rimanga più morbido, si può fare anche con questo, oppure un abito, oppure un gonnellone, stesso discorso di prima, eccolo qua, questo praticamente è un tessuto, che ricorda, mi ricorda quello che sono, ma mi ricordo che anni fa, quando ho fatto la scuola di specializzazione, abbiamo fatto un lavoro in classe, dovevamo disegnare una maschera, che rappresentasse l'animale, in cui noi ci rivediamo, e io avevo detto tigre, tutt'oggi io sono una tigre, ecco qua, in questa finalmente mi potrò vestire da tigre, quale io sono, questo è un cadì, sempre meraviglioso, bellissimo, morbidissimo, cade benissimo, questo sempre ha abiti, gonnellone, è fantastico, i colori sono fantastici, veramente bello bello, 5 euro al metro, altezza 1,45 m, 94 di poliestra e l'elastan, 38,5 metri, quindi anche di questo, ce n'è abbastanza, cosa faresti con questo tu? Faresti un abito, pantaloni, faresti una casacchina, cosa faresti? Vado a sapere nei commenti, così almeno interagiamo un po', perché sono io che parlo, poi io, a me piace molto leggere i vostri commenti, rispondo a tutti, non sono una di quelle che non risponde a nessuno, e ne conosco tante che non rispondono a nessuno, io rispondo a tutti, ultimo tessuto, fà di elasticizzato, fantasia, colori super super estivi, sempre un tessuto meraviglioso, guardalo qui, una meraviglia, fantasia, motivo astratto, fucsia arancione, giallo e nero, 5 euro al metro, più il mio codice sconto, ne abbiamo 37,5 metri disponibili, altezza 1 metro e 45, quindi anche abbastanza, abbastanza alto, eccolo qua, te lo faccio vedere, nel link che ti lascio qui sotto, trovi tutti i tessuti che ti ho fatto vedere, tutti riuniti insieme, mi raccomando, non perderti tessuti, non perdere la possibilità di avere i tessuti UYMA, è così, quando tu vedrai quello che io realizzerò, dirai ecco perché non l'ho comprato, ecco, quindi vai e acquista, anche perché più di così, non possiamo neanche regalarli, cioè è più di un regalo, perché già costano 5 euro al metro per la maggior parte, in più il mio codice sconto, ragazzi, non lo so, più di così, ovviamente il cadì lo trovate anche nel sito di Yaya Tessuti, questo lo dico un po' così, hai visto fino adesso tutti questi tessuti molto particolari, ma ci sono anche i cadì tinta unita, e se tu vuoi essere sicuro di abbinare per esempio un tessuto come questo, che è molto particolare, puoi chiedere ad Angelo un consiglio su come realizzarlo, cioè quale tessuto secondo lui ci può stare meglio, magari ti fa qualche foto, te la manda su whatsapp, e tu puoi scegli quello che ti va meglio, abbiamo terminato di vedere tutte, tutte, tutte le stoffe nuove di Yaya Tessuti, fammi sapere nei commenti se ti sono piaciuti, lasciami anche un bel cuoricino, fammi sapere quali sono i tessuti che ti sono piaciuti di più, che cosa faresti magari con un tessuto piuttosto che un altro, se hai bisogno di aiuto scrivimi, cioè scrivi a, prima di tutto scrivi ad Angelo, ti lascio il suo recapito, ma puoi scrivere anche a me, ma sono facilissimi da trovare questi tessuti, perché io ti mando il link dove sono stati proprio tutti selezionati, perché fanno parte dell'ultima diretta, quindi segui me nei social, ma segui anche Yaya Tessuti nei social, perché così verrai, potrai partecipare alle dirette, e nelle dirette ci sono sempre, sempre degli sconti pazzeschi, dei nuovi, i tessuti nuovi che sono arrivati, e poi si fa anche una bella chiacchierata, io mi taccio perché ho parlato talmente tanto che adesso devo bere qualcosa, io ti mando un grandissimo bacio, e noi ci vediamo al prossimo video, buon cucito, sartoriale, ma soprattutto terapeutico, come vedi, io ero di malumore con queste stoffe, sono già più di buonumore, quindi anche terapeutico, anche comprare stoffe è terapeutico, non solo cucine, quindi comprate stoffe, e poi ci sentiamo così, anche un pochettino meglio, dai un bacio, ciao, alla prossima!